E dunque torniamo in diretta per la seconda parte. Come vi avevo annunciato, andremo a vedere una vocazione forse meno nota, ma che vale la pena di essere esplorata, che caratterizza il territorio emiliano. Lo facciamo con Gaetano Bergami, che è presidente di IR4I. Innanzitutto un benvenuto nei nostri studi. La vocazione è quella per l'aeronautica e l'aerospaziale. Capiamo in che termini e capiamo che cosa avete condensato in quello che è un distretto geografico, ma che ambizioni che vanno oltre questo territorio. Buonasera, spiego subito che cos'è un cluster. Un cluster è un gruppo di aziende che si mettono assieme condividendo la politica industriale delle stesse aziende. Fino adesso avevamo avuto i distretti. I distretti erano localizzati in certe zone, come quello della ceramica, quello dell'abbigliamento a carpi. Invece le aziende dell'aerospaziale sono distribuite in tutta la regione, diciamo metà in Emilia e metà in Romagna. Per lavorare nell'aerospaziale sono necessarie delle certificazioni di qualità elevatissima. Per certificarsi si è sottoposti a degli audit molto stringenti. Quindi noi abbiamo riunito esattamente tutte le aziende della regione che già lavoravano nell'aeronautica con queste specifiche. Siete una quarantina, solo una quarantina? Sì, siamo 42 per l'esattessa. Da ieri siamo 42. Sono, come ho detto, distribuite su tutti i territori. Noi abbiamo una provenienza, la maggior parte, dall'automotive e dalla motorvalley e alcune dal packaging, quindi dalla meccanica avanzata. Abbiamo delle eccellenze di livello mondiale al nostro interno. Ci può dare qualche esempio? Non vogliamo mica far pubblicità, ma spiegare quali componenti, quali aspetti si trattano. Per esempio c'è un'azienda di Rimini, se posso nominarla, la Lucchi, che produce dei motori elettrici che oggi vanno su tutti gli autoveicoli e anche sugli aeromobili. Si sta pensando di montare motori elettrici. Ci sono aziende che fanno particolari come bulloneria in titanio, che non dice nulla, ma che equipaggiano dalla Formula 1 agli aerei. Ci sono aziende che fanno materiali incompositi, che fanno pezzi di aereo in materiale superleggero, il carbonio. Quindi abbiamo delle specificità che è difficile che le persone normali le comprendano. Diciamo che le macchine da Formula 1 o le moto da corsa o anche gli aerei utilizzano dei materiali di qualità elevatissima e molti di questi sono prodotti in regione. Allora, diciamo che per poter realizzare questo ci sono due fattori fondamentali sui quali è necessario investire. Vado proprio a buon senso. La ricerca e l'innovazione. E sono i due settori che normalmente, soprattutto in questo paese, intendo il nostro, l'Italia, soffrono penalizzazioni forti perché le risorse invitano ad investire altrove. Quindi assistiamo a un circolo vizioso, sgrevole, che porta via i cervelli migliori, che fa sì che non si cresca a sufficienza perché non si valorizza questo aspetto. Qui invece è una chiave necessaria. Lei tocca un tasto se IR4I è l'acronimo di innovazione e ricerca per le industrie. Quindi noi abbiamo dato come nome al nostro cluster e come obiettivo l'innovazione e la ricerca. Siamo già inseriti con l'Università di Bologna, con la quale abbiamo iniziato a collaborare e inizieremo anche con altre università. La ricerca e l'innovazione sono il tema fondamentale delle nostre aziende perché pur essendo sane, e ci tengo a dire, non abbiamo mai fatto un minuto di cassa integrazione. E posso dire che oggi è un vanto questo. Ecco, noi stiamo aumentando, tenga presente che nel 2012, un anno di crisi fortissima, le nostre aziende, direi una media, sono cresciute tutte dal 15 al 20%. La mia azienda, per darvi un esempio, negli ultimi due mesi ha assunto 15 giovani laureati. Non uno, 15. Ecco, tra l'altro poi il rapporto con l'Università significa anche evitare il famoso mismatching, no? Per cui i giovani si iscrivono a facoltà che magari non offrono grandi prospettive, mentre ben indirizzati o con un buon dialogo tra il mondo dell'impresa e il mondo accademico, si arriva a dire in questo settore, qui c'è sbocco. Allora, c'era un muro perché in tempi d'oro le industrie lavoravano da sole e le università erano da sole. In una fase come questa, diciamo che la crisi è servita da battere i muri. Noi siamo anche sostenuti dalla politica che ha compreso che le regioni sono dei territori nei quali bisogna valorizzare, si chiamano filiere lunghe in italiano. Cioè noi stiamo cercando nel cluster di prendere tutte le competenze che servono per potersi proporre a delle entità, per darvi un'idea, ci sono le industrie con le quali dialoghiamo, la più piccola 10.000 dipendenti. Non possiamo proporci singolarmente in questi progetti. Poi ci sono i programmi di ricerca, noi dobbiamo proporre al mercato dei prodotti aeronautici. Quindi ci sono problemi di anni di sviluppo, di test che solo le università hanno le possibilità e le capacità e le risorse umane per poterlo fare. E questo è un messaggio che viene lanciato, che dovrebbe essere lanciato in tutti i settori. Non esiste possibilità di sviluppo senza l'innovazione e la ricerca. Questo va bene, vale per tutti i settori, la ceramica, l'abbigliamento, qualunque settore. La ricerca è alla base della competitività del nostro sistema industriale. Eh, ma in periodi di scarsità di risorse magari si operano tagli laddove invece non sarebbe opportuno farlo. Beh, allora, le aziende come le nostre, se sono sane oggi è perché hanno già investito anni fa. Quindi abbiamo anticipato questo trend negativo. Diciamo che adesso è molto più difficile farlo per le aziende che sono in difficoltà economica e non possono investire su progetti perché la ricerca ha dei tempi medio-lunghi, 5 anni, 10 anni. Ma con la necessità di vincere anche magari i rischi della concorrenza, eccetera, si riesce a far dialogare anche in aziende, insomma, imprese non grandissime? Il tessuto produttivo nazionale è fatto di questo, non sono grandi imprese che però magari l'unione fa la forza, sistema significa capacità anche di superare i confini nazionali e forza di essere interlocutori ascoltati. È il problema più grosso che ho dovuto affrontare nel creare il cluster. Convincevi agli imprenditori che assieme si può vincere. Qui non stiamo parlando più che il tuo avversario è il tuo vicino che ti porta via i clienti. I nostri avversari sono nazioni con 4-5 miliardi di abitanti nel Far East, i quali sviluppano tecnologie innovative giorno e notte. Se vogliamo avere una speranza di poter essere competitivi, non oggi, fra 5 anni o 10 anni dovremo sforzarsi di investire tutte le risorse nella ricerca e nell'innovazione. E questa è l'unica ricetta economica che possa funzionare. Ma ambizioni extra regionali ci sono o eccellenze fuori dall'Emilia Romagna si trovano che potete annettere? Noi abbiamo già annesso due aziende toscane, stiamo dialogando con le regioni limitrofe per cercare di creare un cluster molto più grande e molto più potente perché non tutte le competenze che ci servono sono disponibili in regioni. Quindi se le competenze che ci sono necessarie fossero in Veneto, noi stiamo già dialogando con aziende venete. Quindi va superato il confine. Noi ormai ci muoviamo in un ambito globale. Essere limitati al local non è più la ricetta valida. Noi abbiamo richieste da aziende del sud e del nord di unirsi al nostro cluster perché in regione abbiamo una competenza che è quella di fare i fatti e le cose. Allora, grazie a Gaetano Bergami per questo messaggio comunque positivo che tocca il mondo dell'impresa, che tocca i giovani. Insomma, i dati sulla disoccupazione e la perdita anche di speranza sono davvero sconfortanti. Ci sono delle possibilità. È giusto ripeterlo ed è giusto capire che anche all'estero siamo ancora in grado di farci valere nonostante l'aria che tira ultimamente non è delle migliori. Direi che c'è una sottovalutazione delle capacità produttive che esistono in regione e in Italia. Qui è ancora possibile fare tutto. Il problema è che i tempi sono strettissimi e l'economia non è delle migliori. Quindi però abbiamo ancora un tessuto produttivo in grado di produrre qualunque cosa. Guardiamo nel packaging dove la regione ha delle industrie leader mondiali. Quindi non è vero che non esista ancora la capacità produttiva e che molti imprenditori sono un po' disorientati, alcuni sono demotivati e c'è questo tipo di raccordo che purtroppo andava fatto in altri tempi e che ci troviamo ad affrontare. Diciamo che la strada è molto in salita, ma quando leggiamo sui giornali che ci vorranno 63 anni per riprendere i livelli di lavoro precedenti alla crisi, i 63 anni nel nostro termine vuol dire mai. Quindi noi ci rifiutiamo di accettare un concetto del genere e lottiamo tutti assieme per cercare di reagire in modo positivo. Io dopodomani sono all'R2B a intervenire assieme all'università per parlare dell'importanza di lavorare assieme ai centri di ricerca. A Bologna. Esattamente. Bene, allora di nuovo grazie Gaetano Bergmi a voi per averci seguito.